Siamo qui con Mattia Mustacchio al termine di Provercelli-Mantova 1-1. Mattia, l'ultima volta che ci siamo parlati era forse il momento più difficile. Questa sera invece, come detto col mister, è arrivata la risposta che tutti si aspettavano. Sì, stasera abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato e serviva una grandissima prova, una grandissima risposta, soprattutto dal punto di vista motivazionale. E una risposta non mi viene, il termine è giusto, però il fatto di essere su ogni pallone, su ogni situazione, sempre forte, 2.000, rischiando forse a volte anche di essere un po' troppo, che è quello che probabilmente nell'ultima gara non siamo riusciti a dare, bisognava insomma ripartire da questo. Quindi sono contento di questa prestazione. E adesso appunto da questo piccolo gradino, piccolo tassello, come l'ha chiamato il mister, si prepara l'importante partita di martedì sera? Assolutamente, ma adesso sappiamo che abbiamo 9, giusto? 9 finali, 9 finali, io purtroppo 8, ma dobbiamo partire da quello che abbiamo fatto oggi. Cioè partendo da questo punto di vista caratteriale, ogni pallone sembra l'ultimo della gara sulla linea di porta, dobbiamo partire da questa cattiveria agonistica e per poi uscire con la nostra qualità e il nostro schema di gioco, quello che ci dicevano in attore, giocando la palla senza avere la paura di giocare la palla e ripartire con determinazione. Però dobbiamo partire da quello che abbiamo dato oggi, perché questa è la base di tutto e la base che ci ha contraddistinto in tutto il campionato. Nell'ultima gare non c'è stata, adesso l'abbiamo ritrovata, partiamo da questo e andiamo a prenderci i punti che ci spettano nelle prossime gare. Grazie Mattia, complimenti per il gol. Grazie.